Siamo con Francesco Nguyen, Francesco è un giocatore professionista di poker, uno dei più affermati nel panorama nazionale e da poco è anche il creatore, il fondatore di Aggressivo.it e lo stiamo intervistando perché è stato anche uno degli otto finalisti di questo main event qui a Malta, a questa seconda tappa del People's Poker Tour. Purtroppo però Francesco sei uscito? Sì, sono uscito quinto. Purtroppo in questo torneo ho visto belle carte all'inizio, durante il torneo, però il tavolo finale mi ha tradito perché non ho visto nulla. Nulla, solo la coppia di tre e la coppia di sei. Poi a coppia di tre ho collato l'Olin e mi è andato bene. Poi a coppia di sei ho fatto rirese l'Olin e ho trovato due otto e praticamente sono uscito. Però un po' rammarico, però dai tutto ci sta. L'importante è che ho giocato bene, ho migliorato molto il gioco, ho elaborato dei sistemi di gioco perché mi ha portato anche al tavolo finale e anche questo sito che ho creato, aggressivo.it, penso che mi ha portato anche fortuna e spero che mi vedete spesso nel tavolo finale. Io sono sicura di questo anche perché Francesco tu stai dimostrando di essere un giocatore solido e preparato. Anche la riflessione che hai appena fatto relativa alla circostanza che comunque sia tu hai, che sei un giocatore aggressivo, però hai anche poi giocato il tavolo finale in modo diverso perché ovviamente l'obiettivo è poi arrivare ai primi. Io ti faccio di un boccalupo per il tuo sito, per la tua avventura imprenditoriale e complimenti. Grazie, dai. Penso che presto ci vedremo ancora e ricordo ragazzi venite a trovarmi, se volete giocare il zappa con me venite su aggressivo.it che io sono sempre lì. Ciao a tutti, ciao. Ciao.